Che cosa è per voi il teatro? Ok, il teatro è vita e di fatto è il nostro slogan principale e cerchiamo noi attraverso gli spettacoli di mettere in scena proprio la vita reale in maniera surreale, proprio perché alla fine noi ridiamo, il vecchio umorismo, ridiamo sulle disgrazie altrui, quindi in maniera comica però realistica. Beh, io se la posso chiudere in una parola, libertà, cioè è quel momento in cui non solo l'attore ma anche chi viene a vedere lo spettacolo si deve sentire libero, libero anche di fantasticare, di andare al di là della realtà, quindi di sentirsi libero da questo mondo, da tutti questi complessi, da questo mondo che ci opprime ogni giorno. Quindi in una parola, libertà, teatro. Per me il teatro invece, concordo con quello che hanno detto i ragazzi, però io quando faccio teatro mi devo emozionare per prima, se non mi emoziono io per prima non posso emozionare gli altri. E per me è sempre una vincita stare su un palco, perché vuol dire che se lo spettatore ha riso, ha pianto, sono stata io a indurre quell'emozione nella persona, nel pubblico. Quindi io credo che il teatro è emozione pura. Quest'anno ci sono delle novità. È cambiata l'organizzazione interna della compagnia teatrale. Quali sono le novità? Allora, le novità principali di quest'anno della compagnia surreale, partiamo dall'inizio. Purtroppo la nostra regista, Katia Quagliano, che ci ha guidati per dieci anni per motivi personali, ha lasciato la compagnia, la direzione della compagnia. E noi quindi ci siamo dovuti un po' guardare intorno e abbiamo cercato delle collaborazioni esterne. E grazie alle nostre amicizie di ognuno di noi, con registi, con professionisti di questo settore, siamo riusciti ad agganciare, ad avere questa collaborazione con il Teatro d'Europa. E quindi abbiamo deciso di affidare una regia di uno dei tre di spettacoli che porteremo in stagione al direttore artistico del Teatro d'Europa, Luigi Frasca. L'altra novità sarà dunque rappresentata anche da un cambio di immagine. Abbiamo deciso di cambiare anche il logo, il logo della compagnia, che prima rappresentava, diciamo, questo attore surreale. Stilizzato invece adesso, dato la nostra apertura verso l'esterno, verso le collaborazioni esterne, il nuovo logo rappresenterà due persone, quindi questa unione rappresenterà questa unione che noi abbiamo cercato e abbiamo ottenuto. E a livello artistico e di contenuto degli spettacoli, le persone che sono affezionate al vostro modus operandi, di nuovo, che cosa troveranno sulla scena? Allora, la cosa positiva, bella, è che noi l'anno scorso a fine stagione abbiamo fatto un questionario che abbiamo consegnato a tutti i presenti, al nostro pubblico, e abbiamo raccolto questa richiesta del nostro pubblico di portare degli spettacoli che andavano più sulle commedie. Quindi noi perché no abbiamo comunque captato questa richiesta, che è comunque una richiesta quasi un plebiscito, cioè volevano tutti questo, volevano più divertirsi che magari affrontare un tipo di spettacolo un pochino più complesso, come noi abbiamo provato negli anni, quindi era più, diciamo, il nostro era un provare a vedere se determinati tipi di spettacoli potessero convincere il pubblico, e comunque oggi, dopo tanti anni, è un pubblico già che è comunque molto abituato a determinati tipi di spettacoli, e quindi a livello artistico abbiamo deciso che gli spettacoli della Stagione Terraria 2019-2020 sono ormai al 99%, sono quasi tutte commedie. Allora, quest'anno cominceremo con una novità e sarà che noi apriremo la stagione teatrale con una commedia brillante, come diceva, con la regia di Luigi Frasca, e poi seguiranno comunque commedie, commedie musicali, due novità di musical che sono completamente opposte alla vecchia gestione, e finiremo anche noi stessi come compagnia surreale con una commedia, questa volta sul napoletano. Allora, come ha detto Carmela, facciamo dei generi diversi, come mi appello a quello che ha detto Carmela e Alessandro, e quest'anno si sorriderà di più, perché abbiamo bisogno tutti di non pensare sempre a... magari ognuno di noi ha dei problemi familiari, dei problemi insomma abbastanza complicati, ed è giusto che il pubblico quando viene a vederci sorrida per un paio di ore. Quest'anno vogliamo proprio fare questo, vogliamo dedicare e regalare al pubblico sorrisi, emozioni, e perché no, anche dei momenti di spensieratezza. Quest'anno facciamo delle commedie musicali, dei musicali completamente diversi, e quindi cercheremo di chiamare a noi altre tipologie di pubblico, perché ci stanno magari... c'è il pubblico che è abituato a vedere un classico musical, ormai magari famosissimo, come l'anno scorso Aladdin, e invece quest'anno facciamo un musical, che ovviamente non posso dire quale è ancora, ma un musical che ci regalerà altri tipi di emozioni, e ci porterà alla vita attuale. che ha la vita anche passata, perché parleremo di un personaggio che ha regalato a noi, anche se adesso non c'è più, ha regalato a noi, ha regalato ai nostri, diciamo, anterati, parla di un personaggio che c'è stato d'esempio proprio, sia nel passato che attualmente è molto presente, anche nel futuro, perché è un'icona, diciamo, per tutti noi, dalle più piccole al più grande. Possiamo dire un personaggio storico? Sì. Allora, per quanto riguarda la gestione della biglietteria, diciamo, di tutta la stagione di Atale, per quanto riguarda gli abbonamenti, ci saranno, diciamo, degli accorgimenti più importanti per quanto riguarda sia la parte, diciamo, dei bambini, sia la parte degli over 65, quindi cercheremo di andare incontro alle esigenze un po' di tutto il pubblico, che comunque è molto parecato durante tutta la stagione, che noi comunque ringraziamo. Quindi sarà possibile, con una grande novità, quest'anno poter acquistare sia gli abbonamenti che i biglietti sul nostro sito, che sarà il sito www.compagniasurreale.it e ci sarà comunque, sempre a porteguino la nostra Carmela, sarà possibile, diciamo, prenotare, acquistare il biglietto, anche chiamando il suo numero, 333 46 36 199, che ormai sappiamo in memoria, e quindi sarà qualcosa in più che noi diamo anche al pubblico, anche un'opportunità, perché oggi, dato che la tecnologia social, smartphone, quindi sarà possibile, con un clic, poter fare questa operazione di acquisto online dei biglietti e degli abbonamenti.